Ciao a tutti, siamo qui, c'è con me Anna Gioria, io sono Alessandro Cannavò, siamo del Corriere della Sera e vi invitiamo tutti venerdì 2 ottobre alle 14 alla Triennale di Milano per un incontro molto particolare, molto bello nell'ambito del Festival del Tempo delle donne, che si intitola? Maternità straordinaria, quindi venerdì 2 ottobre alle 14 alla Triennale. Allora di cosa parleremo? Sicuramente parliamo di maternità, ma non solo perché c'è anche un papà presente e parliamo di disabilità, quindi parliamo dei genitori di persone con disabilità, gli facciamo raccontare il loro rapporto con i loro figli e appunto cerchiamo di tirare fuori da questo racconto le sensazioni, le difficoltà, i dolori e le gioie. Penso che verrà fuori un bellissimo racconto complessivo di una realtà che è molto presente. Chi ci sarà? Diamo soltanto qualche nome, la ballerina Simona Zori, famosa la ballerina senza braccia che è una libellola deggiadrissima che danzerà per noi in questo appuntamento, ci sarà Sonia Brugnatelli che è la moglie di Paolo Bonolis, ci sarà l'editore Stefano Mauri, ci sarà Bebevio che è diventata un po' la mascotte, la paladina anche del nostro lavoro che facciamo quotidianamente sul tema della disabilità con il nostro blog Invisibili, Bebevio è una campionessa paralimpica, ci sarà lei con la mamma, quindi tanti ospiti, tante storie, venite alla Trenale il venerdì 2 ottobre alle 14, vi aspettiamo.